Ho vissuto una vita da persona libera. Adesso vorrei essere libera di morire nel migliore dei modi. Me lo devo, non è giusto soffrire. Io vorrei un suicidio medicalmente assistito. Bere da me un farmaco capace di porre fine alle mie sofferenze e fare le cose nel migliore dei modi. Salutare i miei cari e andare via con il sorriso.